Stavo raccontando che io ho potuto portarla per lanciare, perché è stata lanciata negli Stati Uniti come scelta, il mercato era considerato più pronto ed era vero secondo me, perché ad aprile sono andato con i primi prototipi proprio per lanciare la preparazione dell'assistenza Ma sul lancio ci sono due cose da dire, perché c'è il lancio che è quello ufficiale alla 101 alla BIMA di New York, Business Equip and Manufacturing Association, una fiera tipo quella del SICO di Parigi, quella di Annora Fagliela vedere Favre 7 adesso è pronta E questo l'avete pensato voi, ma questo è, il valore aggiunto è questo Questa è l'icona con cui si può caratterizzare la macchina Ecco, il programma, ho fatto il download, scannato, 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 scannato Quattro o cinque volumi così di programmi No, ecco Questa è la codifica di carta Questi girono gli occhi, ma se lei vede sono questi simboli Quindi AV e FAI Eh sì, è tutto lì Si impara 15 simboli e è finita Sono istruzioni di alto livello Questa è la codifica di carta